ci sono due anziani che si incontrano e loro gli fanno dire ma te non eri quello che fai rugiare la moglie quando facevi l'amore con adesso ma la fai rugiare anche adesso ma come fai adesso dite ho 30 anni ha lo spoglio tutta nuda ma e poi dopo prendi un vaso di nutella ma la nutella si ha infine una mano e lo metto tutto sul seno e poi un'altra maniera e tutto sulle matiche ma dici quant'è che è rugiare? dici quanto pure se almeno ti attendi la fai di rugi